Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Acignos. In questo video ti porto le anticipazioni che andranno in onda nelle puntate di martedì 4 e mercredì 5 luglio. Saranno anticipazioni ricche di colpi di scena, quindi restate fino alla fine e non ve ne pentirete. La puntata inizia con Demir, che dopo ciò che è accaduto rimane costantemente al fianco di Zuleya, offrendole il suo aiuto in ogni occasione. Golten li raggiunge, accompagnata da Cetin, che porta con sé provveste e cambi di vestiti per Zuleya. Mentre Golten è visibilmente felice di incontrare Zuleya e ne rivolge un affettuoso saluto, Demir esce dalla stanza, seguito da Cetin, che non informa che l'assassino di Cengavier è stato identificato, ed è Atip ed è attualmente ricercato dalle autorità. Demir rimane sconvolto dalla notizia, poiché non avrebbe mai sospettato di Atip. Nel frattempo Wolten chiede a Zuleya perché non ha chiesto aiuto prima di ferirsi. Zuleya non svela la verità, ma le confessa di aver perso la lucidità a causa della tragica perdita dei suoi bambini. Parallelamente, Fecheli è in compagnia di Yilmaz e gli confessa che per lui è come un figlio e desidererebbe che lo fosse anche agli occhi della legge, in modo che possa diventare il suo erede quando Fecheli non ci sarà più. Yilmaz risponde dicendo di aver ricevuto già tutto da Fecheli e di non desiderare altro. Tuttavia Fecheli ribatte che non è vero, poiché Yilmaz ha guadagnato tutto con la sua intelligenza e il suo lavoro e vorrebbe che le terre, frutto del duro lavoro dei suoi antenati, un giorno passino proprio a lui. Pertanto Fecheli gli chiede di accettare di diventare legalmente suo figlio, in modo che possa morire in pace. Ma prima di proseguire, se ti va, lasciami un mi piace ed iscriviti al canale per non perdere le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ripartiamo. Profondamente commosso, Yilmaz accetta la proposta. Nel frattempo, un giovane sconosciuto giunge a Kukurova, scrutando attento l'ambiente circostante mentre guida una vistosa autosportiva. Una volta scesuto al veicolo, osserva intorno come se cercasse di comprendere qualcosa di sé specifico. Si avvicina ad un gruppo di persone e con fare incerto domanda se qualcuno conosce Alira Mef Fecheli. Le risposte affermative si susseguono, confermando che Alira Mef Fecheli è una figura di grande importanza a Kukurova. Nel frattempo, Demir informa a Zuleya che l'assassino di Jean Gavier è stato identificato come Atif e desidera recarsi presso il pubblico ministero per ottenere ulteriori informazioni. Demir affida a Zuleya le cure di Gülten prima di partire. Dopo la partenza di Demir, Zuleya chiede a Gülten di avvertire Yilmaz che ha bisogno di parlargli. Poco dopo, Gülten raggiunge Yilmaz e gli comunica che Zuleya ha un incontro urgente con lui. Yilmaz si affrettà a raggiungere Zuleya, stringendole la mano e chiedendone il motivo del suo gesto. Tuttavia, anziché rispondergli, Zuleya gli dice che deve dirgli qualcosa di estremamente importante. Ma prima di chiedere di giurare su Kerem, che dopo averla ascoltata, non farà nulla di impulsivo. Yilmaz, colpito dalla notizia, giura solennemente a Zuleya di non arrabbiarsi, mentre lei lo guarda intensamente negli occhi e gli rivela che Zuleya è in realtà suo figlio biologico. Mentre Zuleya parla, Yilmaz è sopraffatto dalle immagini del piccolo Zuleya che risuono nella sua mente, ricordando i momenti in cui il bambino lo chiamava papà. La sua espressione riflette uno stato di scioccato, di stupore, mentre tenta di elaborare la verità che gli viene rivelata. Mentre un tumulto di emozioni e ricordi si attavallano nella sua mente. Yilmaz, ancora incredulo, ritira la mano da quella di Zuleya e la guarda con una miscela di confusione e richiesta di spiegazioni. Zuleya conferma ancora una volta che Adnan è suo figlio biologico, spiegando che è bello e coraggioso come lui e che lo ama immensamente. Yilmaz, ancora atterrito, domanda a Zuleya il motivo per cui non aveva mai rivelato la verità fino a quel momento. Piangendo, Zuleya confesse di aver desiderato farlo, ma era paralizzata dalla paura delle conseguenze. A quel punto Yilmaz perde la calma e grida che ha commesso un errore, poiché sarebbe stato disposto a proteggerla a lei e suo figlio e che ora inevitabilmente ci sarà del sangue versato quando andrà a riprendersi il bambino. Implorando Yilmaz di non fare nulla, poiché Demir è a conoscenza di Adnan, Zuleya cerca di spiegargli la situazione. Yilmaz, sempre più scosso, le chiede di raccontargli tutta la storia dall'inizio, così Zuleya rivela che tutta è colpa di Unkar e del suo ricatto. Se lei non avesse accettato di sposare Demir, Yilmaz sarebbe stato condannato a morte. A questo punto Yilmaz comprende che è stata Unkar stessa a denunciare alla polizia per poter appropriarsi di suo figlio. Ma le rivelazioni di Zuleya non si fermano qui. Aggiunge anche che Mojga ha tentato di togliere la vita e non tace sugli abusi subiti dagli indiamma nel corso degli ultimi anni. Questa scoperta destabilizzante spinge Yilmaz a volersi riprendere Adnan per proteggerlo da ulteriori sofferenze. Nel frattempo Zuleya, dopo aver sentito queste parole, minaccia di gettarsi dal balcone della sua camera in clinica. Fortunatamente sia Yilmaz che Gulter riescono a salvarla prontamente, mentre Demir osserva la scena perplesso e intimorito. Temendo che Zuleya possa desiderare nuovamente di togliersi la vita, Demir si affretta a raggiungerla. Quando lei lo vede apparire davanti a sé, per un attimo perde l'equilibrio, dando l'impressione di cadere nel vuoto, ma fortunatamente nulla di tragico accade. Con queste rivelazioni sconvolgenti, Yilmaz si trova a fronteggiare una notizia raspettata e devastante, alimentando ulteriormente la sua rabbia nei confronti di Unkar. Ha realizzato che molte delle difficoltà che ha affrontato sono da attribuire alla sua cattiveria, ma sarà l'arrivo del piccolo Adnan a fargli cambiare idea. Poi vedremo un nuovo personaggio, Fikret, che rischia di investire Sermin e mortificato si offre di accompagnarla in ospedale per farla visitare. In un secondo momento, Zuleya chiede a Sabatini di dimetterla e prega a Gulten di aiutarla a riprendere in mano la sua vita. Le anticipazioni di Terra Amara terminano qui. Cosa ne pensi? Scrivimelo nei commenti e se il video ti è piaciuto lasciami un mi piace ed iscriviti al canale per non perderti le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Iscriviti al canale Iscriviti al canale